Gli obiettivi della differenziata sono importanti e il progetto complesso, inevitabili alcuni disagi sui quali peraltro è già in atto il confronto con la circoscrizione. Così a Cegas replica le critiche che giungono dal rione di San Giacomo sulla sparizione di parte dei cassonetti. Diciamo che in quella circoscrizione siamo andati a presentare il progetto, che è un progetto molto ambizioso, cerca di portare la città di Trieste dalla coda della classifica della raccolta differenziata alle posizioni almeno di centro classifica. Quindi in base a questo obiettivo noi abbiamo cercato di dare a tutti i cittadini tutte le possibilità e tutte le opzioni per la raccolta differenziata. Quindi il cittadino deve trovarsi di fronte agli occhi il cassonetto per la carta, per la plastica, per l'umido e per l'indifferenziata. Non è stato facile individuare luoghi adatti a concentrare tutti i tipi di cassonetti per la raccolta dei rifiuti con lo scopo di agevolare gli utenti. Alcuni rioni, come quello di San Giacomo, hanno molte strade strette. Inevitabile lo spostamento in quelle principali. È necessario andare a lavorare sulle vie grandi, perché i mezzi che fanno queste raccolte sono di grandi dimensioni. Abbiamo lavorato molto nelle retrovie, quindi prima di attivare questo progetto, con dei tavoli che sono durati quasi sei mesi insieme con i tecnici del Comune di Trieste per scegliere le posizioni migliori e per dare quindi una sistemazione migliore possibile a questi contenitori. È chiaro che a contentare tutti non si riesce e che qualcuno sarà costretto magari a percorrere 50-100 metri in più, sempre e comunque all'interno del regolamento comunale di nettezza urbana. Ricordiamoci che poi dove sono scomparsi i cassonetti, noi abbiamo visto che già la mattina dopo sono comparsi miracolosamente dei posti auto, quindi magari c'è il comitato che si lamenta per i 50 metri in più da fare, ma nessuno ci viene a dire che grazie che mi avete dato il posto macchina sotto casa.